La location ci ha imposto una wedding planner interna e stiamo avendo un sacco di problemi. Se anche tu sei in questa situazione o hai paura che ti possa capitare, non perdere questo video. Ciao, sono Roberta Patanè e organizzo matrimoni con l'accento. Ogni venerdì, attraverso i miei video, aiuto tutte le coppie che stanno organizzando il loro matrimonio e vogliono farlo con un certo criterio, lo vogliono fare per bene. E allora, se anche tu stai organizzando il tuo matrimonio, iscriviti subito al canale YouTube. E non dimenticare di cliccare sulla campanella, così sarai sempre informato ogni volta che pubblico un nuovo video. Se sei una sposa, vai sul sito matrimoniconlaccento.it e clicca sul pulsante Unisciti a noi ed entrerai a far parte del magico mondo delle spose con l'accento, con tantissime novità riservate solo a voi. Oggi voglio toccare un argomento un pochino delicato, e cioè la wedding planner interna. A volte capita che le location obblighino gli sposi ad appoggiarsi ad una wedding planner scelta da loro. Premessa importantissima, non parlo di tutte le wedding planner interne, perché ci sono delle wedding planner che sono bravissime, super professionali anche all'interno di location. Io mi riferisco purtroppo a quelle non tanto professionali, che non si comportano bene con gli sposi e li mettono in crisi. Perché ho deciso di parlare di questo argomento? Perché in tantissimi mi scrivete che avete dei problemi con la wedding planner interna, dal sud al nord Italia. L'ultima mi è capitata la settimana scorsa e allora ho deciso di fare un video per mettervi in guardia e soprattutto aiutarvi a non correre questo rischio. Cioè premonirvi prima, stare attenti prima, in modo che poi non possa capitare nulla. E ve lo voglio raccontare raccontandovi appunto la storia di questa coppia, l'ultima che mi ha contattato. Loro sono due sposi che vivono all'estero, lei è italiana, originaria del Veneto e ha scelto per il suo matrimonio una villa veneta che conosce benissimo da quando era piccola, sa che è una villa meravigliosa e vuole sposarsi lì. Hanno scelto questa location, dopodiché sono stati informati che per fare il matrimonio lì dovevano necessariamente affidarsi alla loro wedding planner interna. Per cui cosa è successo? Hanno preso contatti ovviamente prima di firmare il contratto con questa wedding planner che si è dimostrata disponibile, carina, gentile. Gli ha spiegato che l'unico obbligo che avrebbe tra virgolette imposto agli sposi era quello di affidarsi al suo fiorista e al catering di fiducia scelto da lei. Gli sposi tutto sommato si sono sentiti anche sollevati perché vivendo all'estero non è semplice scegliere i fornitori in Italia quindi hanno detto va bene, mandaci il contratto. Arriva il contratto e sul contratto c'era scritto che gli sposi erano obbligati ad utilizzare tutti i fornitori imposti dalla wedding planner, quindi non solo catering e fiorista ma fotografi, animazione, musicisti, tutti i fornitori. Allora si sono sentiti un po' presi in giro, hanno preso contatti di nuovo con questa persona la quale ha detto non vi preoccupate, il contratto è solo una formalità che serve per fermare la data della location. Sbagliatissimo, questo non è vero. Se qualcuno mai vi dirà questa frase non ci credete perché l'unica cosa che veramente vi vincola è il contratto che voi firmate. Se sul contratto c'è scritta una cosa, quella è vera. Qualunque cosa detta a voce diversa da ciò che c'è scritta sul contratto non vale nulla. Loro si sono fidati e hanno sbagliato e si sono ritrovati un po' in un incubo. La seconda cosa per la quale hanno avuto problemi è che loro avevano subito espresso la loro esigenza di venire in Italia a settembre perché avevano la possibilità di essere in Italia solo una settimana a settembre e avrebbero voluto in quell'occasione incontrare i fornitori e organizzare più cose possibili. Il matrimonio si sarebbe svolto a settembre dell'anno successivo, quindi un anno prima. L'hanno detto chiaramente fin da subito, la wedding planner ha detto che non c'era problema, dopodiché è scomparsa, loro hanno iniziato dopo la firma del contratto a scriverle, a provare a chiamarla, lei non rispondeva, al massimo rispondeva con un messaggino whatsapp, hanno cercato di organizzare una call con questa persona che non l'ha voluto organizzare, per tutta risposta gli ha dato i nominativi dei fornitori e gli ha detto contattateli voi e qui è sorto l'ulteriore problema, cioè questi fornitori hanno iniziato a fare preventivi astronomici, completamente fuori budget, tutti fornitori per matrimoni luxury, ma loro volevano un matrimonio normale. Si avvicinava a settembre, volevano organizzare questo incontro, l'incontro non è stato organizzato perché la wedding planner ha detto, eh no, io non ce la faccio, adesso sono occupata con la stagione di quest'anno, ai matrimoni dell'anno prossimo pensero dopo, quindi loro sono venuti in Italia, hanno perso la possibilità di organizzare il loro matrimonio, almeno di conoscere questi fornitori e non è servita a niente, nonostante l'avessero detto fin da subito. Quindi fondamentalmente nel rapporto con questa wedding planner sono mancate due cose basilari, il primo è non aver definito un budget, io non la chiamerei neanche wedding planner, non esiste un wedding planner al mondo che possa organizzare un matrimonio senza sapere qual è il budget degli sposi. Non solo non l'ha chiesto prima il budget, cosa gravissima, veramente gravissima, ma quando loro hanno esternato il loro problema ha dato nominativi di fornitori che costavano pure di più, quindi la loro esigenza non è stata minimamente presa in considerazione. La seconda cosa che è mancata nel rapporto con questa wedding planner, mi fa anche, mi dà anche fastidio chiamarla così perché si è comportata veramente male, è che non c'è stata minimamente trasparenza da parte sua rispetto alle richieste iniziali degli sposi, perché io lo capisco che sia difficile per un wedding planner, lo faccio anch'io di lavoro, organizzare appuntamenti con i matrimoni della stagione successiva mentre è in corso la stagione, perché veramente il tempo è poco, però lo devi dire prima. Nel momento in cui gli sposi ti dicono noi veniamo solo quella settimana lì di settembre, se tu sai già che in quella settimana non potrai organizzare nulla, glielo devi dire prima, lo devono sapere, non lo possono scoprire dopo. A parte il fatto che se uno lo sa sei mesi prima, il tempo per fare degli appuntamenti anche in pienissima stagione, secondo me lo trova però, quella è questione di disponibilità delle persone. Ad ogni modo ci deve essere trasparenza subito sulle difficoltà. Allora, veniamo al sodo, cosa dovete chiedere? Se la location vi impone una wedding planner interna che voi non conoscete? Innanzitutto dovete chiedere delle tempistiche, il timing, da qui al matrimonio. Come si svolgeranno i tempi dell'organizzazione? Perché è normale che sia il wedding planner a dettare i tempi dell'organizzazione, perché sa quanto tempo prima vanno fatte le cose e quando vanno fatte esattamente. Però se gli sposi non lo sanno, vanno in ansia. Quindi una cosa che dovete chiedere di allegare al contratto è un'idea di tempistiche dell'organizzazione. Se è iscritto nel contratto, vincola la wedding planner poi a seguire quelle tempistiche. Seconda cosa che dovete assolutamente fare inserire a contratto è il budget totale di cui disponete, il budget che volete investire nel vostro matrimonio. Se avete già un'idea anche della suddivisione per voci, fate inserire anche quello. Per le foto al massimo voglio spendere tot, per i fiori al massimo voglio spendere tot. Fatelo inserire nel contratto perché quella è l'unica garanzia che avete. Terza cosa da inserire nel contratto o comunque da concordare per iscritto sono eventuali esigenze vostre particolari. Io so che verrò in Italia dal al di settembre in quella settimana chiedo di poter incontrare catering, fiorista o almeno i fornitori che ritenete più importanti. Si concorda che in quella settimana verranno organizzati questi appuntamenti. Nel contratto così nessuno può scappare, nessuno può sfuggire. Ora parlo di questa esigenza particolare perché è quella che è capitata. Se ne avete un'altra chiedete che venga inserita contratto. Perché il contratto è così importante? Intanto tutela sia voi che i fornitori sempre. Io sono una grande sostenitrice dei contratti. I contratti ci vogliono e devono essere molto dettagliati. Ma soprattutto quando un wedding planner viene imposto viene a mancare una cosa che è fondamentale e le location forse a questo non pensano. Manca la fiducia di base. Perché se gli sposi, se lo scelgono il wedding planner, scelgono una persona di cui si fidano che a livello empatico ispira fiducia e quindi su alcune cose si può andare anche un po' a braccio. Ma se un wedding planner viene imposto potrebbe anche non piacerti, potrebbe non ispirarti fiducia. E allora cosa ti tutela? Il contratto. È l'unica cosa che conta. Su quello vi dovete basare. E non sto dicendo che un wedding planner è bravo o non è bravo. A parte questo esempio che vi ho fatto, che secondo me si è comportato veramente in maniera scorretta. Un wedding planner può essere perfetto per una coppia, può essere sbagliatissimo per un'altra. Perché le coppie sono diverse, anche i wedding planner sono diversi. E quindi sceglierselo. Uno si sceglie quello che gli è più affine. Ma se non lo scegli ti devi tutelare. Con il contratto. E non date per scontato nulla. Fate tutte le domande che vi vengono in mente. Fatevi dare risposte chiare. Se le risposte che vi danno non coincidono con quello che c'è scritto nel contratto. Fate modificare il contratto. E non pensate di dare per scontato delle informazioni perché vi sembrano normali. Gli sposi non lo sanno bene come funziona l'organizzazione di un matrimonio. Quindi possono dare per esempio per scontato che si possano fare mille appuntamenti. Ma non è così. Allora chiedete, chiedete più informazioni possibile. Come si svolgerà l'organizzazione? Vi verrà spiegato. Così, 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 così. Bene. Me lo metti per iscritto? Così io poi sto tranquillo? Così funziona. Così deve funzionare. A me dispiace dover fare un video come questo perché io adoro il mio lavoro. Quindi per me il wedding planner è una figura professionale importante che deve portare solo valore aggiunto. Capisco l'esigenza di alcune location, soprattutto di un certo livello, che dicono al mio interno io voglio solo matrimoni di un certo tipo, quindi affido l'organizzazione a questa persona. Lo posso capire. Quello che assolutamente non capisco, non tollero e trovo veramente poco etico è obbligare ad utilizzare tutti i fornitori del wedding planner. Questo non va bene a meno che non venga proposta una rosa di fornitori per ogni servizio adatta al budget della coppia. Io sono la prima che si dispiace quando i miei sposi propongo dei fornitori e mi dicono ma sai a noi però piacerebbe quest'altro fotografo. Io non lo conosco, non so come lavora, non posso garantire per lui. Per i fornitori che ho selezionato io posso garantire perché so che sono bravi, che sono professionali, che sono efficienti. Però capita. Comunque io ai miei sposi non propongo mai un fotografo, un catering. No, gliene propongo due, tre. Quelli che servono finché loro non sono contenti. E soprattutto faccio una selezione in funzione del budget. Non proporrò mai un fiorista che come minimo, come è capitato a quegli sposi, chiede 8.000 euro di budget quando gli sposi hanno deciso di investire 3-4.000 euro negli allestimenti. Che senso ha? Non puoi assolutamente obbligare degli sposi ad utilizzare dei fornitori che sono fuori budget. Devono avere la possibilità di scegliere. O comunque se vuoi imporre dei fornitori a budget altissimo, dei fornitori luxury, lo devi dire prima, non puoi una coppia scoprirlo dopo, quando è già in corso e poi la metti in crisi perché si trova incastrata in un meccanismo che non riesci a risolvere. Allora tu dici location, va bene, ti vuoi sposare da me, ti devi affidare a questa wedding planner. Per lavorare con questa wedding planner servono un minimo 70, 80, 100.000 euro di budget. Se ti sta bene, firmi il contratto, se non ti sta bene, non lo firmi. Ma non lo posso scoprire dopo che mi serve un budget così alto, lo devo sapere prima. La trasparenza è fondamentale e quindi qui chiudo con un ultimissimo consiglio. Non vi affidate mai ai messaggini, a whatsapp e tantomeno alle telefonate per decidere delle cose. Se dovete decidere delle cose, mandate delle email e vi fate rispondere per accettazione di quello che è stato scritto. Non vi affidate assolutamente a degli elementi che poi rendono introvabile l'accordo che avevate preso. Tutelatevi in primis col contratto. Iscrivetevi alle news con l'accento per non perdere nessuno dei miei consigli. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!